Ciao a tutti, sono Claudio Mangini, sono un Animal Trainer cinematografico e non solo cinematografico. Cos'è il cinema? Il cinema è la mia vita insieme agli animali. Io sognavo da piccolo di fare qualche cosa con gli animali e amavo profondamente il cinema. Facendo l'Animal Trainer ho accontentato tutte e due le parti di me stesso. Ho messo poi a disposizione le competenze acquisite negli anni per poter aiutare tanti cani sfortunati e tante famiglie che avevano problemi con i loro cani cercando di fare la mia piccola parte. Con molta soddisfazione devo dire che nella maggior parte dei casi questo è stato possibile e è riuscito. Perché Napoli? Perché Napoli è una città che mi assomiglia profondamente, poi perché è una grande città del sud, è una città che amo da molti anni, ci sono finito un po' per caso, però nulla è mai a caso. Abbiamo pensato che fosse utile una scuola di etologia applicata a Napoli considerando che Napoli raccoglie un po' anche per la posizione strategica che ha un po' tutto il sud perché il senso era quello di cercare di portare nel sud tutto ciò che le persone del sud devono andare a trovare fuori. E quindi abbiamo pensato di aprire questa scuola, questa era che sta per Etological Relationship with Animals dove i ragazzi possono venire a imparare sia con me che con docenti nazionali e anche internazionali, soprattutto internazionali perché oggi il mondo è molto più vicino grazie a internet, grazie ai nuovi sistemi di comunicazione, imparare quello che sarebbero costretti a imparare da altre parti, magari a migliaia di chilometri da casa. E quindi questa nuova avventura mi stimola moltissimo e ovviamente è aperta a tutti i ragazzi del sud ma anche del nord, non è che cercate di venire in vacanza da queste parti se potete o venite a passare un po' di tempo da queste parti perché è veramente splendido e merita. Chi è Manara? Eccolo qua, è un pastore berga marinois di tre anni, una giovane promessa non solo del cinema ma anche perché nel cinema lui ha già lavorato fino a quando aveva quattro mesi, distinguendosi in uno spot bellissimo come quello di Adriano Celentano per Rock Economy e soprattutto poi in questo ultimo film che ha girato che è Il Giovane Favoloso, la storia di Giacomo Leopardi. Manara è anche un cane atletico, è un cane che fa una disciplina molto particolare che si chiama Mondio Ring, è iscritto tra l'altro e fa parte della squadra di Alfio Tufrida nella collina di Drago, è una squadra di cui io non sono solo un carissimo amico e acerrimo sostenitore e fans ma appunto al punto tale di essere estremamente onorato del fatto che lui faccia parte di questa bellissima squadra. Progetti per il futuro tantissimi, grazie al cielo. Solo il 2014 è denso di seminari, di appuntamenti ma anche di molti film che vedranno protagonisti proprio Manara e tutti gli altri miei animali attori anzi io direi a questo punto di farlo salutare agli amici di questa bellissima tv. Manara, Manara vieni qua che salutiamo tutti, vieni, vieni. E' il suo modo di salutare. Questo per dirgli che gli addestratori non sono poi così non amati dai propri cani. Un saluto a tutti, ciao.